Eccoci, allora Dobbiamo fare un po' di missioni Eccoci, allora Non cossano te il sole E qui qua Siamo tutti Manca qualcuno Siamo tutti Siamo tutti Siamo tutti Siamo tutti Siamo tutti Allora conchiglia Ma qui ci sono Servono anche questi Se li troviamo li prendiamo Ecco questa conchiglia Prendiamo sempre il solito gruppo Tecnologia Dunque Dunque proseguiamo E sdomiamo il pericolo Un'altra conchiglia Non è sicuro che il dico non trattato. Let's go back. Non escapare. Non escapare. Non escapare. Non escapare. Non escapare. Non escapare. Illusion shatter! Uphel battle! Yes, it was my mistake, but... It's okay, so... Then I must thank all... I don't think there's anything that will be... Yes, I agree as well. Let's head back. Hey! You didn't have to see it! No problem. I'm happy to oblige. After overcoming many obstacles, at this time, the little fairy in the group bathed under the goddess's glory. Oh no! No. The crown was within the... Oh, I'm kind of beautiful! Thank you, everyone. My child. I'm shaking! I sure hope... Please don't work. Then I must thank you for your hard work. And see you in two days, my lovely friends. Okay, where are you? Where are you? It's about time we start heading up to you! Yeah... I will need to... Yeah! I knew that you didn't... Uh... Uh... It's because... Uh... Am I true? Hehehehe... Okay... Thank you. I'm sorry... I... The patch by... I know... Uh... The patch? I know... I know... Grazie a tutti. 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 Quanto non ci interessa... Allora... 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 Tanto le risorse ce le ho, mi interessano più le prime Le prime le abbiamo prese Raga, quando mi metto le lettere è tutto divento Mi chiamo, che un anno fa, un bambino è stato un po' di pesce Un po' di pesce 100% sicuro Noi, la scuola è strana? No, la scuola è strana Noi, la madre è stata davastata da l'incidente e si è davvero... Non è così Non è così Ma? Mi sono scuola, mi sono scuola Oh, la scuola Non c'è nessuno. This is the residence No, you're right So if I That is correct, that might have been Those actions are No I see So after She spent a whole night staring at the shell The young master left behind Don't panic, Paimon Yves Poichou Dr. Jalacan Have you seen it? Are you thinking about Yes This is it, that's right If what Dr. Jalacan's We need to show her that her child has One must first Face reality Right, and if we could complete it There's no time I'll just find her Take care Ah Todd Jalacan Siamo qui di nuovo. Questo è l'ultima parte di... ...eve un... ...eve un... Sì, è vero. Chi m'è mai? Sì, e poi potrete riuscire. Sì, sicuramente sarà. Ilusione shatter! Watch out, everyone! They're coming at us again! There's the building! This building looks so different than ever today! We must be going all out! Polkline! Allow me! There is no escape! Illusion shatter! Oh, this is the kind of enemy, right? Oh, this is the ground for you now, you're hot! Illusion shatter! Brass is rebounding! Windstrike! Shine down! Torn to oblivion! Torn to oblivion! Torn to oblivion! There is no escape! There is no escape! There is no escape! I'm sorry! I'm not trying to stop you, madame! It's just... Could you tell me the name of your child? Dr. Jalakum, how can you forget the name of your... I see... Zyria! Zyria! We've re... Ha! Ha! Paimon! Everyone! Have you really? Yes! But the coronation ceremony still hasn't taken place, because we felt like you should be the one to preside over it. Wonderful! How wonderful! Velxie! My child! My child! And the last page... Right! Don't worry! Okay! Okay! The water imps... The prince could not hope Ziryu walked across... Thank you! I am so sorry, my child! I am so sorry, my child! I am so sorry, my child! Grazie, mamma. Grazie, mamma. Grazie, mamma. Grazie, mamma. Grazie. Grazie, mamma. Grazie, mamma. Grazie, mamma. Grazie, mamma. Grazie, mamma. Grazie. 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 Grazie, mamma. Grazie, mamma. Grazie, mamma. Grazie. 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 Oh, fine. Oh, fine. E' solo un gadget? Qui devo cercare qualcosa. Piccolo. E' solo un gadget. ma la missione è finita è finita così la missione facciamoci questo wish no lo facciamo poi ma niente raga grazie a tutti ci vediamo a fare un po' sull'altro gioco ciao